Ciao a tutti da TheRange e benvenuti al nuovo episodio dei Transformers Reviews! In questo episodio facciamo la review di un modellino molto particolare per la mia collezione, sempre dei film di ebay, ma questa è un'edizione molto particolare. Oggi facciamo la review di questa edizione che si chiama semplicemente Rescue Ratchet! Allora, vi dico già una cosa, questa è l'edizione che io possiedo in pratica, di Ratchet mi è stata regalata molto tempo fa, un po' prima che uscisse il terzo capitolo. Infatti è un'edizione di Ratchet un po' più differente, dovrebbe appartenere proprio al secondo capitolo, dovrebbe essere un recolor di Ratchet, in pratica. Un recolor fatto un po' con i colori della G1 in pratica, tutto qui perché i colori di Ratchet sono ben alti e un pochino modificato. E se non è, da quello che avevo visto su internet, dovrebbe essere un'edizione deluxe, solo che purtroppo ho fatto delle ricerche su internet e purtroppo sulla scatola non viene detto. Però dovrebbe essere un deluxe, quindi in ogni caso, per me comunque dico solamente che è un'edizione deluxe, anche se non sono per bene sicuro. In ogni caso, se scopro che poi è un'edizione deluxe, lo scriverò direttamente nella copertina in pratica e cercherò di mettere un sottotititolo, adesso qua direi dove mi sono sbagliato, ho tutto qua in pratica e basta. Ah, e tra l'altro non vi stupite se lo vedete, è incompleto perché manca una parte direttamente qua del missile che purtroppo ho perso e che non trovo. Tutto qua comunque, ecco quello qua, Ratchet è bellissimo in pratica, per lui purtroppo non ho la scatolina, ma come, vabbè, poi gli altri modelli io, da quei tempi quando l'avevo ricevuto, si parla di oltre dieci anni fa, nel 2010, 2011, quando me li davano, voglio dire, o meglio questo è stato proprio un regalo, in generale, tutto qua comunque sia, io non tenevo le scatoline perché volevo subito il prodotto per giocarci, un po' per collezionare, trasformarla in pratica, tutto qua, quindi per questo non le vedete in pratica. Proprio, un po' perché sono vecchi, ma anche un po' perché, qui tempino, quello che osservavo le scatoline. Comunque, se, diamo subitissimo un'analisi che è veramente molto figo, proprio come è stato realizzato, devo dire, è anche molto particolare, perché allora ha i colori della Juno ed è un'edizione proprio Ratchet, proprio un po' di salvataggio in pratica, e differisce un po' che dalla Ratchet è un po' che si vede un po' nei film di Bain, in pratica, e tra l'altro, vabbè, il Blast è anche staccabilissimo facilmente, infatti, io, quando lo tengo trasformato, evito di tenere il Blast, comunque sia, diciamo che è molto particolare, differisce molto che dal Ratchet dei film di Bain, perché nel film di Bain, Ratchet in generale, ha anche altre colori, però è anche un po' più lungo, qui è un po' più stretto, questa parte qui dovrebbe essere un po' più in alto, e dovrebbe essere, almeno fino a qui, un po' più allungato, cose che qui, che non c'è, però la cosa, per me, non è stata un problema, perché questa edizione qui di Ratchet, mi è moltissimo piaciuta, un casino in pratica, comunque, se guardate, qua, quanto è fatto veramente bene, un casino, anche come fosse stata fatta per bene, le edizioni un po' robot, come è fatto veramente bene, un po' nella sua forma veicolare, in pratica, davvero molto carina, con la scritta, qua, Ratchet, Ratchet, anche qui, dettagli, sono veramente, fatti molto bene, e poi c'è il simbolo degli auto, perché è veramente molto bello, e che è molto, praticamente, ricorda, se non erro, sento anche da alcuni accessori su internet, che è, praticamente, il simbolo, proprio, della G1, questo qui, qui dovrebbe essere, più o meno, poi, io non ne sono sicuro, quindi, non vado a, 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 a fare troppe considerazioni, comunque, ci voglio vedere, comunque, si è guardato, effettivamente, molto bene, hanno, hanno, anche, fatto una cosa particolare, per questo modello, che hanno dipinto, anche, queste parti qua, dietro un po', che di fanare, cosa che hanno, tanto, che, per altri modelli, lì, un po', in pratica, non facevano, io, ce ne avrei, altri modelli, che potrei prendere, in considerazione, che, purtroppo, non facevano, quella colorazione, oppure, la facevano, di chiedere, tutto male, ma, vai, farò vedere, per bene, ad una prossima accensione, se, 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 mi capita, perché, dannazione, non ce l'ho, sto mano, comunque, se, devo dire, che, ovviamente, molto carino, è, veramente, molto bello, devo dire, anche, soprattutto, qua, che hanno, visto l'incastro, per il blaster, anche, se, forse, un pochino, per me, un pochino, stonava, tutto qua, e, a livello, di dimensioni, e, 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 ci sta, anche, molto bene, in pratica, se, messo, comparazione, con, questo, qui, che dovrebbe essere, Crank X, o, crowbar, in ogni caso, dovrebbe essere, se, di, Transformers 3, è, quasi, la stessa, scala, in pratica, devo dire, in pratica, che, possendo, un'edizione, dell'OX, ci, sta, anche, bene, voglio dire, ben, messo, a comparazione, con lui, e, tra l'altro, veramente, una comparazione, anche, con, un'altro, autobot, in pratica, topspin, vabbè, vabbè, uno dei wrecks, comunque, eccolo, qua, chiaramente, molto carino, e, ah, che, tra l'altro, mi scuso, se, ancora, una volta, non, non, vi ho voluto, recensire, e, lui, in pratica, ma, ma, perché, mi, gira, per dare, la sua, accensione, a lui, tutto qua, che, non, per questo motivo, permetto, che, di lui, ve la vado, sicuramente, una, sua, una, sua, accensione, in pratica, tutto qua, il fatto, che, non lo metto, mai, in comparazione, perché, mi piace, troppo, trasformato, la sua, forma, a veicolo, ma, vi prometto, che, un giorno, fa, faccio, la sua, accensione, perché, io, lo, adoro, in pratica, tutto qua, è, veramente, tanto, fichissimo, e, basta, e, nulla, di più, comunque, se, non vi potete, vedere, la forma, veicolare, è, veramente, molto, carino, vero, molto, bello, un po' più, differente, soprattutto, per, i colori, dell'agg1, vabbè, ragazzi, dopo, questo punto, qui, di, al mini, analisi, in pratica, adesso, facciamo, seguitissimo, a, 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 vederlo, come, nella sua, modalità, robotiche, si, e, vi ripeto, non fate, una, sua, trasformazione, indietro, perché, ho, poveri, di, rompere, i pezzi, per, motivo, mio, personale, tutto qua, in pratica, ho, poveri, di, fare, a, di, fare, con, la, videocamera, tu, qui, per questo motivo, qui, faccio, una, transizione, passiamo, un po', subitissimo, a, 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 vederlo, come, trasformato, nella, sua, modalità, robot. Ed, eccolo, qua, trasformato nella, sua, modalità, robotiche, che, è, veramente, molto carina, mi piace un casino, che adesso la iniziamo subitissimo un attimino proprio bene perché ha un po' di cose carine, io vi dico già una cosa che Ratchet City mi piace veramente moltissimo, questa edizione qui, certo non è uno fra i miei Transformers, però questa edizione qui è molto particola, soprattutto per il colore un po' della G1 che è un po' che ti possiede in pratica difensa dei soliti colori bregiani in pratica, tutto qua in pratica, che secondo me veramente ha un bellissimo contesto, vedete, avete fatto veramente tanto bene, mi piace veramente un casino in pratica, vedete tutto per bene, poi i dettagli che ha in generale modo da rifinare, ma anche qua voglio dire, per esempio anche i dettagli robotici qua, come sono messi, sono veramente molto belli in pratica, devo dire, in tutto per tutto, devo dire, è semplice, devo dire, ma mi piace veramente un casino, vedete, anche qua da dietro è veramente molto bello, in pratica su come è fatto in ogni genere, come tutto quanto vada bene, come per esempio il simbolo degli Autobot che capita che va qua dietro, in pratica tutto qua, anche se forse un pochino, mi dispiace che sia un pochino stortino, ma è un ok, comunque se per questo è veramente molto bello e veramente ci sta veramente molto bene, devo dire proprio che la scelta di colori, secondo me, si è risultata veramente molto ben azzeccata, tutto qua, unica cosa che un pochino, un po' da nazione, un po' mi preoccupa, un pochino, dimmi, dimmi, eccetera, vedete qua, qua su questo punto qua, non so se coi indicavano meglio, comunque dovrebbe essere più o meno qua, più o meno, ecco, io ogni volta lo trasformo in pratica dalla sua modalità, in veicolo, a macchina, ho sempre una paura da bestia, perché vedete un po' qua, c'è dei segnini un po' bianchi ulteriore, quasi un po' di sforzo e non vorrei che per un po' si spaccasse tutto qua, in pratica, ma comunque sia, per questo motivo qui, evito quindi di trasformarlo quindi questa è una poche volta che l'ho trasformato e per questo motivo qui ho dovuto subito fare le recensioni mi sono detto, oh quanto è figo, facciamolo subitissimo la recensione, prima che sia troppo tardi e così ho fatto, in pratica, tutto qua, comunque sia, vabbè, per il resto comunque si è fatto molto bene e l'ultima cosa che mi succede a soffermarsi è un po' in pratica, tica, che è una differenza molto particolare è un po' quella in pratica per le braccia, in pratica, vedete qua c'è questa gabbietta qua, in stile gommina tutto qua in pratica, cosa che di qua che non ce l'ha purtroppo perché deve far alloggiare un'arma anche se, piccola, commento personale per me, potevano anche metterglielo benissimo mi sembra un po' la cavolata perché l'hanno fatto in plastica durina tutto qua, in pratica, ma ok, che la cosa è accettabile tutto qua, ma comunque, questo sia, adesso io un attimo, come si racconta per le articolazioni che ce ne ha un po' voi, non sono tante però, sono poche ma buone allora, già abbiamo la testa, che semplicemente si abbassa in questo modo e leggermente si alza, e leggermente vuota a meno fare la rotazione totale, perché poi dopo c'è queste parti qui che un po' lo bloccano ma ok, la spalla invece, c'è un ottimo movimento, perché vedete, c'è questo pernetto qua in pratica, così, e vedete, può essere spostato ben in basso e anche per bene in alto, vedete poi già abbiamo una rotazione qua, quindi al bicipito è molto buono così, in questo metodo qui, piegamento purtroppo singolino ma che potrebbe anche fare un pochino di più, vedete in tanto che è un po' struita questa parte qua, in pratica, non è singolino, è stato anche quasi doppio, ma ok, è abbastanza comunque molto ottimo per ratchet poi qui purtroppo, qui all'opposto purtroppo, non ha nessun tipo di articolazione purtroppo è solamente fissa, quindi purtroppo non c'è da trascurare e le gambe, che anche qui sono molto ben articolate per ratchet abbiamo la spaccata ben totale, così in questo metodo qua poi abbiamo una rotazione a questo punto qua piegamento, veramente ottimo, quasi anche doppio in pratica, vedete di pochissimo, anzi il piegamento al piede, può anche arrivare a essere totalmente doppio in pratica, cosa che ci sta molto bene per lui e poi c'è il piegamento al piede, che si muove in alto ed in basso, così in questo metodo, scusatemi se è un po' girato però non è facile tutto qui e poi c'è il piegamento al piede, che è molto buono in pratica in questi punti qui e consente per bene di essere ben posato nel suo posto sempliciotto in pratica, tutto qua e questo tutto per l'articolazione, invece passando all'armata d'accessorio facciamo velocissimo, perché purtroppo è solamente una sola arma in pratica il suo accessorio, che sarebbe il mini missilino, purtroppo che l'ho perso in pratica comunque si, ecco qui comunque il cannoncino molto carino, nonostante quanto a me, non devo dire che non gli spiace c'era anche il missile un po' più viola, un po' da allungare ma io sono sicuro che c'era perfettamente bene in camera e da qualche parte soltanto che mi è scappato da qualche parte infatti prometto che se lo ritrovo in un prossimo episodio della Transformers Reviews, lo metto a comparazione stavolta col missilino, sì lo so, mi dispiace per questa cosa ma attenzione, adesso passiamo all'incastamento dell'arma che qui è molto particolare, perché vedete c'ha questi vitini in pratica che quando si va a mettere la sua arma così in questo metodo qua vedete, salgono e si chiedono su ar anche se questa cosa che io alle volte è carina però, dà anche un po' di problemi perché a volte, vedete, non riesce per bene a stare per bene incastrato infatti, ci bisogna anche un po' per bene un po' arrangiarsi per bene in pratica anche se lo si vuole togliere con facilità e in basso invece di cliccarlo qui e il gioco è praticamente fatto tutto qua comunque ragazzi, nonostante tutto quanto voglio dire che comunque questa cosetta qui è veramente molto ottima e anche geniale in pratica e finalmente ragazzi è riuscito anche per bene ad incastarlo passando invece all'ultimo punto che faccio dare di solito, meglio quello della posabilibilità per i miei modelli di Transformers bisogna dire che qua per il mio ratchet devo dire che è un po' un meh come livello di possibilità perché purtroppo secondo me le parti delle braccia non le hanno fatte perfettamente bene come dovrebbe riuscire a fare quindi per esempio mancherebbe secondo me una cosa che ci dovesse stato una rotazione anche qui al bicipite purtroppo perché purtroppo vedete può essere solamente si messo in singole pose così ma che secondo me un pochino perché lo vuole posare bene come le fanno come dei Transformers purtroppo non andrò per bene il dinamismo soltanto in questa posa qui e se essere abbastanza soddisfacente dannazione perché per il resto voglio dire che come livello di posing è veramente molto inferiore ed è un peccato perché per alcune parti come per esempio qui alle gambe è mostruoso in pratica qui può fare davvero un casino e purtroppo invece le braccia è stato veramente mal calcolato dannazione soprattutto per la cosa infatto che non può ruotare questa parte qui voglio dire dannazione è un po' solamente ruota soltanto questa parte qui e sta cosa qui non ha molto senso voglio dire tutto qua per questo modellino tutto qua però comunque io comunque vorrei mostrarlo comunque nonostante quanto vabbè lo accetto perché io l'accetto non è che lo adoro molto posare in posa il combattimento il medico per me che sta più alla base comunque devo dire che in fin dei conti ok ok voglio dire forse è l'unico punto dolente in pratica quello proprio delle articolazioni sulle braccia tutto qua che influiscono un po' sulla posabilità che ha portato qua in generale modo il nostro ratchet tutto qua vabbè ragazzi dopo questo punto qua è un po' bene la posabilità adesso misuriamo la sua altezza complessiva facciamo con le comparazioni varie poi vediamo i suoi dati positivi e negativi vediamo il voto finale il mio rescue ratchet è molto particolare sull'altezza perché bisogna considerare due fattori perché se lo consideriamo dai piedi alla testa e alto attorno è quasi ben diciamo quasi ben ai 13 centimetri e mezzo ma se consideriamo questa parte qua di questa parte qui del cofano in pratica diciamo perché si rompe sul cofano ha così un po' più d'altezza che dovrebbe essere attorno ai quasi ben 14 centimetri e mezzo in generale quindi dico come l'altezza wow ha un'altezza molto particolare il ratchet è un po' difficile perché ci sono due parti in pratica soprattutto questa che la tende anche un po' più per bene a rialzare tutto qua e per il mio rescue ratchet questo è il primo paragone con iron head non mi ricordo bene che edizione era per semplicemente di iron head però comunque è l'unica che ho in pratica di iron head che me ne è stata anche che sia un regalo tutto qua in pratica e mi trovo che fosse per appartenere alla classe dei hard for the septic non mi ricordo bene però dovrebbe essere anche lui un deluxe come lui però anche se è un po' bassino un po' in pratica e la cosa è un po' da dire ma vabbè ne parliamo fino avanti si fanno accessori di carta a lui comunque se come potete notare il ratchet è abbastanza più alto un po' di iron head in comparazione con smoke screen quest'autobot che di base sarebbe un recolor di jazz del primo film tutto qua in pratica è nominato un po' in smoke screen ma per me secondo me anche se si chiama smoke screen per me rimane comunque jazz a tutti gli effetti con una veste di colore tutto qua che comunque si cittadano per fare bene un po' in pratica a mettere a comparazione anche tra l'altro come avete capito quanti lui è un riciclo in pratica di jazz ma solamente ricolorato tutto qua e che forse più in avanti può essere anche recensivi in questa mia mini rubrica comparazione con sideswipe del terzo film che è veramente molto figo decisamente molto bene anche se vuoi preoccuparmi anche l'edizione del secondo film come potete notare lui è un pochettino più alto un po' di recita soprattutto leggermente grazie anche a questi suoi spuntoni che fungono anche un po' da spade in pratica e lo rendono veramente molto figo comparazione con Jolt un autobot che si vede soltanto che nel secondo capitolo e che perché nel terzo misteriosamente non ricompare più in pratica e comunque anche lui ha un bel modellino in pratica e tra l'altro forse porto anche la sua accensione prima o poi perché secondo me ha tante cose interessanti secondo me un pochino me lo ameriterebbe tutto qua veramente un autobus che vi troverà molto pochissimo spazio tutto qua in pratica quasi dimenticato in generale comparazione anche con Drift uno fra i miei preferiti della mia collezione tutto qua che ci vende molto bene anche se vi comunico che in futuro non mi sono deciso appena rischio torno a fare tradicente compro anche che il Drift che è del quarto firma in pratica perché si in pratica tutto qua in pratica mi piacerebbe un casino senza tutto quanto averlo era un po' indeciso se comprarlo comunque sia vi comunico già che probabilmente appena lo riuscirò a comprare ve lo accensirò comparazione con Will Jack di War for Cyber Bratton Trilogy perché si in pratica mi andava di metterci anche lui e tutto qua il mio ultimo acquisto è veramente molto fichissimo che abbiamo già visto ci sto facendo gli incidenti episodi comparazione con Bumblebee questa edizione qui del secondo film una fra le migliori che io possiedo è veramente molto fichissimo e che prossima ma veramente ho iniezione a portarvi per bene la sua recensione ma sto un pochino per bene studiando in pratica ma veramente questo Bumblebee qui ho iniezione riesce a seguire perché anche una sorpresa veramente molto figlia comparazione anche con B1 27 che è il suo primo omonimo tutto qua così perché mi andava e perché Ratchet 3 compariva un po' aspetto Juno mentre invece questo modello qui quindi c'è quello della Juno quindi mi sembrava un po' da fare comparazione con Optimus Prime questa edizione qui non mi ricordo più da dove proveniva però mi ricordo che è un Voyage molto particolare in pratica anche lui è una vera che è molto molto presto l'intenzione di portarvi nelle mie recensioni comparazione anche con Optimus Prime ma anche dovrebbe sempre anche lui un Voyage comunque dovrebbe essere McTech in pratica che è veramente molto figo e anche di loro hanno inizio di portarvi la sua recensione ed infine per concludere in bellezza paragoni come sempre di mancabile le con il Base Candam che vabbè è la mia unità di comparazione che non manca mai tutte le mie accensioni quindi parlando dei lati positivi e negativi di questo Ratchet per me cominciare con una piccolissima cosa che questa edizione qui di Ratchet pensate un po' e mi dirò una cosa non l'ho comprato da me anzi si è stato proprio un regalo a tutti gli effetti perché avevo ritratto un mio amico a trovare il gioco difficilissimo a comprare per rastebitarmi mi regalò da Ratchet e infatti io sono davvero molto contento perché stavo cercando infatti di comprare un po' la squadra un po' che si vede un po' che nel primo film gli diamo andavo anche bene con un'equa edizione quindi mi sono contentato anche di lui in pratica che mi pare veramente molto interessante in pratica tutto qua non l'avevo solamente a contare questa piccola aneddota su come l'ho avuto veramente e che tra l'altro infatti è stato veramente contento di aver avuto questa edizione qui perché devo dire che per certi versi è riuscito anche un po' a stupirmi in pratica soprattutto per il fatto per lo schema di colore che praticamente è lo stesso della Juno che è veramente molto bellissimo ragazzi uno schema di colore peccato che nei fin di bay non abbia avuto questo schema di colore se no sarebbe stato ancora meglio tutto qua comunque sia a me piace devo dire e poi un'altra cosa veramente molto bella che è pieno di dettagli veramente un casino molto buono devo dire che sia la sua modalità robotica ma anche quella veicolare fatta veramente molto bene ne devo dire anche se fosse mancano un pochino di manche ma vabbè è una vecchia edizione con questo moderno adesso è un po' più di meglio comunque si è totalmente molto bene c'è un attissimi dettagli come il simbolo degli autobut molto uno stile giuno o diversi quello stile giuno è un fighissimo anche poi i dettagli come sono belli anche qui della porta di scorta anche qui ben messi anche un po' per bene qua dietro devo dire e anche questa parte qui di gommina è anche molto carina e un altro dato positivo ancora in più che mi piace veramente un casino sono anche un po' le sue articolazioni che sono abbastanza buone ma se purtroppo le articolazioni sono abbastanza buone devo dire che purtroppo perdono parecchi punti alle braccia che per carità sono anche articolate ma secondo me non avrei inserito una rotazione per questo punto qua voglio dire del braccio è una penalizzazione veramente molto grave in pratica perché purtroppo io purtroppo non riesco a mettere in posa come dannazione io vorrei dannazione e forse questo è il lato negativo maggiore in pratica tutto qua in pratica un altro lato negativo mi sento un po' di aggiungere in pratica questa parte qua che dà un po' di fastidio voglio dire e non si riesce mai a trovare il giusto compromesso questa parte qui che si alza si alza in pratica infatti non lo so non lo so non è scomentare un punto di soddisfazione in pratica per dire che ok mi soddisfa voglio dire e poi in alcuni punti magari la trasformazione in modalità veicolo è un po' davvero complicata in certi punti si fa veramente molta fatica tutto qua in pratica io l'ho trasformato una volta ma sono veramente per noia in pratica e mi sono reso conto che sarà veramente difficile infatti dopo che l'ho trasformato quella volta mi sono detto aspettate un attimo lo tengo ancora un po' trasformato qualche giorno che voglio farci un'accensione su di lui tutto qua così sparmio anche tempo e così ho fatto tutto qua in pratica e ne sono veramente nonostante quanto molto contento e comunque si devo dire che comunque e facendo comunque per bene mi sono valutato per bene che mi piace un casino non ho tutto qua e quindi ragazzi dopo questi punti qui è giunto quindi un momento di dargli il voto finale e il voto finale per Brachet è molto complicato credo che come voto penso che si becchi un 6.3 come voto un 6.3 perché nonostante il modellino non sia veramente abbastanza buono secondo me il fatto che la trasformazione è un po' complicata da fare in alcuni punti e che purtroppo che qui nelle braccia non è stato per bene articolato come sarebbe stato dovuto essere secondo me è una grossissima penalità una penalità che purtroppo non posso accettare tutto qua io come dice in sotto certo devo essere pignolo purtroppo e queste cose qui purtroppo che ragazzi mi spiace ma non ci posso passare sopra purtroppo mi ha dato abbastanza fastidio nonostante quanto però comunque è una bellissima edizione nonostante quanto io comunque se avete un consiglio recuperate nonostante quanto secondo me è veramente molto bello nonostante quanto soprattutto avere un transformer sberiano in pratica con l'aspetto un po' in pratica che ha di color in pratica della Juno e secondo me è una piccolissima chicca più da esporre in pratica e meno da posare tutto qua quindi ragazzi questo è il mio parere complessivo in pratica per Bratchet in pratica e vi dico già che prossimamente ho intenzione di comprare una nuova edizione di Bratchet molto buona sono deciso di prendere quella di War for Cyber Tron Trilogy o qualcosa del genere voglio qualcosa che si avvicina al stile Juno che sia un po' modernizzato in ogni caso ci sarà una novità vi farò vedere e nulla di più con questo è una fine di questo episodio della Transformers Reviews per il prossimo episodio vi dico già una cosa che se non mi arriva il model kit che ho ordinato si fa coordinato un nuovo model kit della Trampater probabilmente vi potrò una accensione o di Sideswipe eccovelo qua in pratica oppure di questo che sarebbe Topspin in pratica tutto qua in pratica chiaramente molto bello in pratica in generale quindi in ogni caso per il prossimo episodio ci potrebbe salutazione tra queste cose qui voglio dire anche se non confermo nulla perché poter cambiare piano come sempre all'ottimo minuto come ho fatto in questo episodio quarto vabbè e detto questo comunque siamo davvero alla fine ci siamo un attimo a fare nemmeno alcuni prognostici e vi innovo come sempre a me soliti in video meglio di quello che se vi video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un bel commento e una fan piccola condivisione ovunque voi vogliate un buon dodo e tagliate la visita del mio canale in descrizione trovate il link alla mia pagina facebook mi raccomando visitate dove avete porto di tutti i miei dati ovviamente chiusi per album e se non siete ancora iscritti iscrivete al mio canale attivate la campanina un buon dobbio tutte le nuove notifiche se non mi passi un frutto video che vi porto sui miei canali che vi porto tantissimi minibaker dalle compleviews super robots reviews transformers reviews super heroes revis letterbox reviews tante minibaker con tante cose interessanti e non sull'altro anche tante vecchie che molto interessanti per i collezionisti bene ragazzi direi che con questo è proprio tutto noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per aver guardato questo episodio del transformers super heroes noi ci vediamo al prossimo video e un ciao al vostro The Ranger un ciao da me e dal Rescue Ratchet ciao ragazzi